In una giornata cupa come questa, più viginosa, ho saputo dal mio avvocato, dal quale sono appena tornato, che la Procura della Repubblica vuole archiviare la mia aggressione subita nel 2012, aprile 2012, vinmente, avendo le mani fuori uso perché erano state bruciate del fuoco, per cui impossibilitato difendermi da tre persone, viene archiviata perché non sono state identificate le persone che mi hanno aggredito, strano perché quando intervenono i carabinieri, dopo essere stati chiamati dalle persone che mi hanno aggredito, dissi che erano state loro ad aggredirmi, le quali risposero che io ero caduto, eccetera, eccetera. E così oggi il fax che ha ricevuto il mio avvocato dice che la mia denuncia fatta contro gli aggressori dovrebbe essere archiviata, in quanto non sono stati identificati gli aggressori stessi. Adesso il mio avvocato cercherà di presentare un ricorso dopo aver controllato le carte in tribunale e si vedrà strano, come strano, le vittime sono sempre doppiamente vittime.